e salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in questo spot che a dir il vero non frequento tantissimo però ogni tanto mi piace venirci tanto c'è una bassa marea brutale mai visto una bassa marea così qui vedo cose che non avevo mai visto in vita mia e ovviamente sono portato oggi la beastmaster shimano questa è una 728 e fa parte delle canne nuove che ho acquistato dopo il furto di tutte le mie vecchie combo montato con un Daiwa Fuego 4000 comincerò con qualche mino con qualche long jerk perché io parlo parlo poi alla fine qualche lancio al long jerk me lo faccio sempre però ho intenzione di fare un po di aging oggi questo perché l'amico Daniele di Wild Fishing Adventures mi ha fornito delle totanare che a lui hanno funzionato molto bene la giornata è bella mi sembra che si presti più o meno per l'aging e allora perché no proviamo anche l'aging chissà che non sia la volta buona che becco il calamaro bene io raggiungo uno spot che mi aggrada e cominciamo subito bene io bene io e allora seguo il consiglio dell'amico Daniele di mettermi in ad aging quindi ho montato questa totanare 3.0 che vedete queste attacchi che non sono di calamari ma di barracuda successa questa cosa strana quella volta allora ma io non sono pratico di aging quindi lo impariamo insieme però mi diceva Daniele che bisogna tenere la frizione molto aperta quindi cominciamo io non ho la più pallida idea di come si peschi ad aging quindi c'è proprio faccio arrivare a fondo più o meno ci siamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho preso una seppia, ho preso una seppia ragazzi. Si è liberata la seppia. Ho preso una seppia però. Incredibile, incredibile ragazzi. Ho preso una seppia, non l'avrei detto mai. È rimasto soltanto il nero quando è scappata via. Dai però è eccezionale, dai. Pazzesco, pazzesco. Non te ne andare subito, fra dopo che fa buio aspetta un'altra oretta, perché proprio quello è il momento propizio. Allora, ho informato l'amico Daniele di questa seppia. Ancora c'è il nero, qui in acqua ancora c'è il nero della seppia che è scappata via. Però, oh ragazzi, è la mia prima seppia. Mica cavoli. Troppo contento. Vediamo se riesco a togliere sta cosa. Propriamente no. Dai dai dai, ci riproviamo. Non ci riproviamo, non ci riproviamo, non ci riproviamo. Ehi, ehi, ehi. Questo tira. Vediamo che cos'è. Ehi, ehi. Questa è un'altra seppia. Più bella ancora di quella di prima. Più bella ancora. Vediamo se riusciamo a non perderla questa. Questa è un seppione. Questa è un mostriciattolo. Ho preso un bel mostriciattolo. Bella questa. Guardate che spettacolo di seppia, ragazzi. Ma che è questa meraviglia. La prima seppia che sono riuscito a tirare fuori dall'acqua. Bella, bella. Bella grande cavolo. Bellissima. Bellissima. Fantastica, ragazzi, fantastica. Fantastica. Bella, bella, bella. La stavo perdendo pure questa. Ma siamo riusciti a prenderla. Bellissima. 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 ok ragazzi questa qua mi vuole sporcare tutto di nero è stato bellissimo tirarla fuori ma ora si deve riprodurre questa meraviglia e quindi la liberiamo quindi ciao ed ecco che se ne va in una nuvola di nero sono qui per la riproduzione è giusto che si riproducano mi ha sporcato tutto di nero comunque bellissima ragazzi è un'esperienza questa grazie Daniele grazie Daniele di avermi fatto provare questa esperienza veramente veramente bella veramente veramente che bella grazie ok qua sta diventando tutto nero dalle seppie che ho preso oh ragazzi come prima volta ad edging non mi posso lamentare un'altra ce l'ho ce l'ho ragazzi ce l'ho oh questa pure è bella questa tira proprio oh lalalala come pompa questa è presa proprio pelo pelo per i tentacoli un'altra bella seppia un'altra bella seppia non credo che riuscirò a tirare la basù ma forse sì eh già un tentacolo già si è liberato sempre grande guardate che bestia è grossa quanto quella di prima che meraviglia ragazzi che meraviglia eh non posso rispondere in questo momento ok non gli voglio fare troppo male non voglio fargli troppo male a questo bellissimo animale vediamo se riesco a liberarlo senza che animale bellissimo devo stare attento a non cadere in acqua vediamo se riusciamo a liberarlo dai dai mollalo quando è quando non lo devi mollare lo molli subito e quando è vero eh ragazzi non posso rispondere adesso ok sei liberato ecco che se ne va fantastico fantastico ragazzi che meraviglia non me l'aspettavo che mi sarei divertito ad edging non cioè che cosa è questa cosa cioè non è cosa che mi appartiene almeno fino ad oggi fino ad oggi c'è da dire che oggi le condizioni sono veramente eccezionali per l'edging e sono molto rare qui in questo spot sono veramente veramente rare queste condizioni oggi infatti ho detto ho visto queste condizioni qui ho detto vai proviamo eccolo eccolo acchiappata acchiappata un'altra seppia acchiappata vediamo se riesco a portarla qua si è liberata e vabbè ragazzi però fantastico niente 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 ci vuole però il guadino ebbene amici oggi finiamo qui questa bellissima sessione di edging con queste seppie bellissime che sono uscite fuori che è la prima volta ad edging grazie alle totanare tanto fornitemi dall'amico di Daniele di Wild and Fishing Adventures che lui è molto molto bravo ad edging e tira fuori i seppie i calamari seguitelo perché è molto molto bravo devo dire ho seguito i suoi consigli alla lettera mi sono impegnato e sono uscite le mie prime seppie sono veramente veramente contento e soddisfatto bene io spero che il video sia piaciuto anche a voi mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi perché comunque ora ci sarà anche questa nuova branca dell'edging che finora non c'è stato e quindi mi raccomando e noi ci vediamo alla prossima pescata quindi alla prossima